Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Pure Sensia 200D Connect, parliamo di un sistema che come evidenzia il nome stesso è un Portable Wireless Music and Radio System. Il tutto è stato presentato qualche settimana fa, ora procediamo allo spacchettamento del prodottino in questione e vediamo cosa è incluso nella confezione di vinita. Come potete apprezzare è una confezione discretamente voluminosa, vediamo a questo punto all'interno del packaging di vinita la bontà dell'imballaggio. Nel momento in cui andate a recidere i sigilli, siate delicati, vi facciamo vedere l'organizzazione interna, abbiamo una busta con il marchio più in evidenza, vediamo se c'è dentro. vi ringraziano dell'acquisto, guida in più lingue, trovate italiano, inglese, francese, tedesco, quindi trovate le principali lingue europee, a questo punto vediamo di aprire il box, all'interno trovate protezione direi decisamente spessa, protezione scheletrata come vedete in caso di acquisto online non ci dovrebbero essere particolari problemi, abbiamo un sacchettino con all'interno il nostro prodotto, andiamo ora di estrarre tutto, come vedete abbiamo un sacchettino a strozzatura, vediamo a questo punto di guadagnare all'interno del prodotto, telecomando, scatoletta di accessori, vediamo se c'è all'interno, un paio di pile, basetta per quanto riguarda il sistema Viori in questione, sai che c'è un altro boxettino, alimentazione, spinottino extra, vediamo se c'è dell'altro, altrimenti leverei la scatola, sì come vedete abbiamo il fondo quindi scheletrato come la parte superiore, bene tolta la scatola vediamo a questo punto di cominciare a posolare la nostra immagine, abbiamo quindi la nostra basetta è giusto così per farvi una sorta di riassunto di ciò che trovate all'interno del box, abbiamo l'alimentazione e il suo spinottino secondario, abbiamo poi il telecomando con una forma decisamente piacevole, stilosa con i tasti come vedete sia a rilevo che tasti lucidi su sfondo opaco, e anche di piacevole impatto estetico, abbiamo un paio di batterie, a questo punto abbiamo anche le immancabili istruzioni per appunto un corretto utilizzo, a questo punto riusciamo quindi a vedere anche la nostra radio in senso stretto, sarà appunto il sistema da noi valutato, come vedete già si intravedono nelle uscite, tra cui per esempio quella USB, quella per l'auxiliary in la presa di corrente, detto questo comunque lo spacchettamento termina così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi saluto, brevissimo galleria fotografica, dopodiché metteremo in funzione il tutto e vedremo un attimo come si comporta, la demo si conclude così, non c'è altro da mostrarvi, lo spacchettamento quindi è completato, io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi, ora è tutto, un saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragazzino